ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo il video per quanto riguarda la saga del decluttering oggi parleremo di ciprie io per le ciprie ho una passione ma veramente una passione perché prima ne utilizzavo tantissimo adesso un po meno però sono sempre quei prodotti che acquisto più facilmente come fondotinta quindi ho un bel po di ciprie da declutterare il cassetto è pieno e quindi andiamo a vedere cosa ho combinato questa volta noi come sempre ci vediamo alla fine ciao questo è il reparto delle ciprie li vedete belle posizionate ma ovviamente dovrò toglierne alcune almeno credo almeno spero perché ne ho un bel po ovviamente la cipria è una cosa che a me piace adesso li prenderò diciamo da questo cassetto perché mi viene male declutterare mentre sono là dentro li metterò sul tavolo e decideremo insieme quale tenere quale regalare e quale se è rovinata cestinare iniziamo allora è arrivato il momento delle ciprie quindi oddio ho un bel po di ciprie ma vi faccio vedere che alcune sono ancora chiuse quindi in automatico non non li diciamo regalo non li vendo allora uda beauty l'ho soltanto aperta in questa maniera ovviamente senza togliere il swiffer il cappuccetto questa cipria mi piace tantissimo l'ho presa con lo sconto molte di queste ciprie più costose sono state prese scontate perché sennò non le avrei mai assolutamente prese quindi questa la lascio ancora sigillata e quando finirò alcune di queste ciprie la utilizzerò questa è la cupcake di uda beauty la stessa cosa di quella di cimatti ho sentito parlare di questa cipria molto bene perché dicono che è ottima e quindi l'ho voluta acquistare ovviamente vedete che ancora sigillata alla linguetta a uno specchietto anche qui e devo dire che essendo che ne hanno parlato tutti benissimo ho cercato di acquistarla con lo sconto ma non l'ho mai utilizzata e quindi la teniamo poi sigillata revolution c'è la bene ai di banana la lux powder questo mi sbaglio l'ho presa da un sito non mi ricordo comunque sigillata vedete ancora la plastichina quindi la tengo ovvio poi abbiamo quella di cosmi fai per quanto riguarda eric oba non l'ho mai utilizzata l'avevo acquistata mentre sono stata a catania all'ovs se riesco anche a farlo uscire dalla confezione ve lo faccio anche vedere in caso la confezione la tolgo direttamente ok va bene ci siamo riusciti ed è la cipria di erichi oba tutti dicono bellissime cose su questa cipria non l'ho ancora utilizzato e questa è la suico e quindi ovviamente la tengo molte di queste cipre vi dico la verità terror perché non l'ho proprio utilizzata revolution questa l'ho acquistata ma non l'ho mai utilizzato infatti ancora c'è il swiffer quindi ovviamente la tengo inutile che la tolgo mi potrebbe venire la voglia dopo nabla stessa identica cosa perché di più mi sono trovata con questa però ovviamente essendo sigillata vi faccio vedere essendo ancora sigillata perché non l'ho ancora utilizzata io di norma la tengo nello scatolo perché so che è ancora nuova vedete sigillata perché l'ho presa con lo sconto automaticamente prima finisco quelle che ho già aperto e poi le altre nabla ottima cipria mi piace tantissimo l'ho utilizzata questa è la mia seconda se non mi sbaglio la prima che avevo comprato l'ho finita in posso dire un anno e qualcosa questo invece poi non sono riuscita a finire perché ho comprato un bel po di cipre quindi la tengo perché mi piace poi per quanto riguarda kiko aspettate che mi sposto tutte queste per quanto riguarda kiko vi faccio vedere le cipre che posseggo perché io con le cipre di kiko mi trovo benissimo allora abbiamo solo queste abbiamo solo queste questa è l'ultima che è arrivata e ovviamente la tengo che ve lo dico a fare la tengo queste ciprie sono una meglio dell'altra questa è della tascan sunshine tascan sunshine sunshine ed è ancora così nuova come la tengo questa è quella natalizia dell'anno precedente ed è quella cotta mi piace tantissimo come texture questa cipria e quindi la tengo questa è un'altra per quanto riguarda quella non è proprio cotta ma è quella bombata ma è molto molto leggera scusate è molto leggera e mi piace anche questa e poi abbiamo queste due che sono quelle bianche sempre di kiko vedete sono leggerissime proprio leggerissime quindi le tengo la stessa identica cosa anche questa questa è quella più utilizzata quella che ho utilizzato di più in assoluto e questa è leggermente iridescente però cose di poco e quindi la tengo ovvio che la tengo abbiamo quella di color pop color pop ancora non l'ho proprio utilizzata perché non sono riuscita a fare il video quindi ovviamente la tengo poi come cipria in polvere libera abbiamo questa qui di cotris decantata tantissimo da giulia cova e quindi l'ho voluta prendere però credo che sia leggermente scura per il mio incarnato normale quindi la utilizzerò in estate se poi in estate sembra ancora scura la regalerò altra cipria queste di makeup addict cosmetics l'ho presa su beauty bay sigillata quindi io non apro tantissime cose l'unica cosa che ho aperto di più sono che utilizzo ovviamente sempre sono i blush l'illuminante questi li apro sempre li utilizzo ma le ciprie che sono cose che io utilizzo pochissimo non li apro poi polvere libero polvere libero polvere libero facciamo le polvere libere dai facciamo polvere libero e polvere libero allora julius place devo fare ancora il video ovviamente sigillata che ve lo dico a fare infatti di norma faccio questi video proprio per aprire prodotti però almeno devo cercare di smaltirne qualcuno questa la tengo sia te presa scontata da look fantastic come la by terry come quella di huda beauty e anastasia questi sono state prese tutte da look fantastic sia te cipria ottima decantata ovviamente da giulia cova io prendo spunto sempre dei suoi video perché lei è una makeup artist sa quello che può servire anche alle persone che hanno una pelle secca come lei guardo tantissimo li course beauty perché veramente danno tantissimi consigli vedete è ancora chiusa quindi ancora può rimanere loro danno io perlomeno sono i due che cerco e ricerco anche ovviamente essendo scritta cerco sempre perché mi fido tantissimo di giulia perché veramente una make up artist molto professionale tutto e richioba pure mi piace tantissimo e poi li course beauty perché veramente di make up anche se non è nato in questo settore tra virgolette ovviamente diciamo ne sa più di tanti altri quindi mi piace tantissimo poi by terry sempre hyaluronic la cipria all'acido hyaluronic by terry bellissimo il packaging voglio prendere quella compatta ed è sigillata queste mi sa che non lo so se tengo tutto oddio poi l'ultima no la penultima cipria è quella di anastasia questa la utilizzerò quando utilizzerò il suo fondo vorrei fare tipo una cosa del genere anche questa ovviamente è sigillata io ve lo faccio vedere proprio per essere precisa nei vostri confronti però ovvio che è sigillata e l'ultima che vi faccio vedere questa qui di essence che è quella leggermente colorata che è simile a questo qui di wacono adesso ve lo faccio vedere ed è quella della color correction anche tipo avete presente quella di Givenchy dei quattro colori ecco hanno detto che tipo una simile dupe di questa quando fu e io l'ho presa però non lo so se è questa proprio ed è quella di Givenchy è simile a questa quindi questa cosa della color correction vedete il con la colorazione anche se sinceramente sembra di più un illuminante infatti questo lo potete mettere in qualche parte del viso cioè tipo non lo so perché cioè di norma non dovrebbe ora perché forse ho sbocciato anche gli ombretti poco fa che ho fatto l'altro video può essere anche un po' più luminosa però la devo provare perché l'ho soltanto provata non mi ricordo se è stato l'anno scorso quindi la devo riprovare poi andiamo alle nostre ciprie allora le ciprie che sono più affezionata sono quella di The Balm bellissima il packaging fantastico questo non lo butterò mai ed è una cipria leggermente colorata ma non l'ho mai utilizzata l'ho soltanto sbocciata nelle varie volte ma non l'ho mai utilizzata perché non voglio rovinare il pack sinceramente non lo so se la utilizzerò in caso metterò qualcos'altro in questo pack non lo so e poi quella di Deborah Fully che è questa qui che è leggermente cioè è trasparente adesso ne ho presa tanta però è trasparente come cipria e mi piace l'ho già utilizzata questa è quella di Catrice utilizzata anche utilizzata ed è sempre tipo del sempre color correction quindi ottima poi abbiamo questa di Too Faced molti hanno preso l'ultima che è uscita io l'ho presa quando è stata quando lo stavano per togliere perché era scontata tutti ne parlavano benissimo di questa cipria io l'ho voluta prendere con il suo piumino e questa è la cipria molto sottile mi piace tantissimo e la trovo levigante e quindi la utilizzo quando sono in occasioni particolari non vi faccio vedere in queste ciprie non vi faccio vedere quelle piccoline perché sono esposte nell'espositore quindi quelle non ve li faccio vedere perché molte ciprie sono nei bottini piccolini e quindi sono messe nel reparto mini size poi in caso se volete vi faccio un video di tutti i miei prodotti mini size perché sono tantissimi la cipria di Essence questa non mi ricordo se è la seconda o la terza che ho acquistato e l'ho finita questa è stata la prima cipria che ho finito ed è fantastica io mi trovo benissimo è sottilissima non si sente sulla pelle ed è fantastica in questi osi make up sia estivo che invernale poi ho questa qui matte questa qui matte non l'ho ancora utilizzata nemmeno una volta questa qui di Essence come scusate come non ho utilizzato questa qui di Rimmel nemmeno una volta infatti se vedete il disegno è intatto perché questi ancora non li ho utilizzati cerco di utilizzare più altre ciprie poi abbiamo questa qui io adoravo il suo primer viso mi piaceva tantissimo e questa è la cipria You Better Work anche questa è una cipria ottima di quelle bianche trasparenti e tutto perché non mi piace perché non segna la texture del viso e quindi anche questa rimane poi abbiamo questa questa qui di Rude Cosmetics non mi ricordo sinceramente se mi è piaciuta o meno la dovrei riprovare il pack è molto carino e la oddio forse è la cosa più dura va bene non riesco nemmeno ad aprirla ok ed è questo ed è leggermente giallino non so se si nota vediamo se riesco a farvelo notare è leggermente giallina e quindi ho paura che mi faccia la pelle più scura e quindi questa la regalo o la venderò poi vedrò poi andiamo a sempre questa qui di Essence mi piace tantissimo questa è leggermente più rosata quando vedo l'apertura proprio quando vedo il mio viso spento io utilizzo questo tipo di cipria è uguale alla Brim It Up Brim It Up scusate questa qui è uguale a questa però mi dà più l'effetto diciamo sveglia non so come dirlo sveglia l'incarnato va in poche parole quindi questa la tengo e poi arriviamo a questa questa è di Elf mai utilizzata ancora è nuovissima sigillata quindi la metto di lato forse la regalerò o la venderò poi abbiamo la Catrice Prime I'm Fine ed è oddio l'apertura di queste cipria è una così ed è sempre tipo simile a questa qui di Essence quindi per adesso la tengo e la metto di lato anche questa poi ho questa qui di Rimmel questa qui di Pupa che sono leggermente simili questa è leggermente più chiara di questa vedete solo questa è un po' più gialla però non gialla come la Rude Cosmetics vedete e io questa qui la utilizzo quando ho messo tipo un fondotinta leggermente più chiaro diciamo gli passo la cipria così leggermente più scura e sistemo l'incarnato e poi ho questa qui della L'Oreal fatta così molto molto leggera di una texture veramente molto molto leggera sono indecisa tra queste due o questa o questa devo decidere adesso farò una cosa li metterò davanti li proverò e poi vediamo se quella che mi piace meno la toglierò poi l'altra cipria che è messa invece qui nell'espositore è una è questa e l'altra è questa qui allora questa è quella di Kiko vedete tutto questo è perché era appiccicosa io l'ho passato lo smalto ed è la cipria che io utilizzo per la borsetta ed è questa qui questa colorazione vedete la texture mi piace tantissimo di questa cipria però la vorrei togliere però con il packaging così non la posso né vendere né regalare mi fa veramente e quindi la rimetterò in borsa se non mi piace poi la darò alle mie nipotine per giocarci e poi c'è questa qui di Astra che è la 02 e gli ho messo siccome stava per finire la bianca gli ho messo anche la bianca mixata qui dentro e quindi è rimasta qui niente queste sono tutte le mie ciprie purtroppo ne ho tolta soltanto una perché veramente le altre non riesco nemmeno a toccarle perché mi piacciono tantissimo ovviamente le altre quelle che sono sigillate non le tocco quindi automaticamente finirò quelle che sono aperte e poi aprirò anche le altre quindi non credo di aver bisogno di cipria quelle di Kiko mi piacciono tantissime infatti sono indecisa di mettere tipo in borsetta invece di quella la Kiko di mettere tipo questa solo non ha il puff è quella la cosa capito tipo queste così non hanno il puff all'interno per utilizzarle posso prendere tipo una di queste che ha il puff all'interno cioè di norma c'è la spugnetta però questa è leggermente più scura comunque devo vedere e verificare quello che mi viene meglio e poi vi farò sapere mi dispiace per voi che non ho tolto le ciprie però ovviamente non ne vale la pena toglierle li metto di lato questo è tutto ci vediamo alla prossima ciao bene ragazzi questo è stato il decluttering per quanto riguarda le ciprie credo di essere stata brava ma insomma non direi proprio comunque io ho una cruccia io per le ciprie non lo so faccio la collezione non so cosa dirvi perché mi piacciono tantissimo questa è Chloe che vi saluta se l'avete sentita abbaiare e niente che dirvi per quanto riguarda per quanto riguarda questo video è tutto io vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao